Veramente difficile non è stato nessuno. Perché? Perché tutti volevano restare qui. Daniele che è stato il primo, Eric che è stato il secondo, Raja il terzo, Federico, Manolas e Perotti. Tutti volevano restare qui. Questo è lo più facile fare al direttore. Se tu hai un appuntamento per fare un rinnovo e il cazzatore vuole andare via, è impossibile. Ma questo è importante anche per il merito della società. Tutti avevano possibilità di andare via, è un squadro importante. E tutti volevano restare qui. Questo credo che parla bene della crescita della società. Florensi, aspettiamo che non so quanto tempo, ma per me è il seguente obiettivo, non posso dire questa cosa, è la verità, no? Credo che ho parlato di questo prima, no? Florensi e la Roma devono continuare insieme tanti tanti anni. Se non ricordo una cosa dici. Sì, sì, è vero. Grazie. Grazie. Grazie a tutti